Musica Benvenuti cari amici di Classhost TV al nostro speciale dedicato al dressage. Com'è oggi in studio c'è Claudio Gabbiani, musicista e compositore, professore di sound design all'OIED e delle analisi delle colonne sonore all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Benvenuto. Grazie mille. Signor Gabbiani, lei è compositore e curatore degli accompagnamenti, tra gli altri anche di Valentina Truppa, Esther Soldi e Sara Morganti. Ci racconta un po' del suo ruolo, come è arrivato anche a rivestire questo ruolo molto particolare. Come tante cose belle c'è una componente di fortuna e di caso. Nel senso che mi sembra nel 1996 Antonello Ruzzitu, amico mio, mi chiese se potevo curare e cominciare a fare le musiche per una giovanissima, per Laura Conza all'inizio e per una giovanissima Montanari, Claudia Montanari. Io ovviamente gli dici di sì, anche perché montavamo insieme, andavamo a cavallo insieme, sempre dressage. Mi sono ritrovato a capire quello che i cavalieri mi chiedevano. Era più facile, come dire, entrare in sintonia e questo mi ha aiutato moltissimo nella scelta delle musiche e, come dire, nel trovare per ogni cavallo, per ogni cavaliere, quello che potesse essere la sua musica. Sì, perché infatti è proprio questa la cosa più importante nel freestyle, trovare l'accompagnamento musicale che sottolinea e riesce a raccontare la storia propria di ogni cavallo e cavaliere e riuscire a esprimere questa sintonia e armonia nel modo migliore possibile, no? Esattamente, è proprio così. Era forse la prima volta in cui la musica era veramente al servizio di qualcos'altro, nel senso che ho dovuto capire subito che la scelta musicale non era legata alla musica più bella o quella che mi piaceva di più, ma era legata alla musica più giusta per il binomio. E la musica giusta per un binomio è completamente sbagliata per un altro binomio. Se un cavallo è grosso e, per esempio, non si porta e io scelgo una musica piuttosto pesante, il cavallo sembra che non si alzi da terra. Se il cavallo è leggero e io scelgo una musica frivola, sembra che il cavallo non stia lavorando. Per cui devo anche pensare a delle componenti tecniche della CUR che non vanno soltanto legate alla parte artistica. Entriamo, direi, subito nel vivo del suo lavoro e iniziamo proprio da Valentina Truppa che è uno degli esempi migliori. Lei ha avuto il grande onore anche di creare la CUR di Valentina Truppa che, tra l'altro, ha portato fino alle Olimpiadi. Ci parli un po' di questa collaborazione nata con Enzo e Valentina Truppa? Con Enzo e Valentina abbiamo cominciato a collaborare quando Valentina montava ancora Technique ed era una bambina, una ragazzina. E poi, col passare degli anni, in realtà abbiamo scoperto che il nostro rapporto andava al di là di un rapporto meramente tecnico. È diventato un rapporto di amicizia che ha portato continuamente a scambiarci. Io e Enzo ci sentiamo, ci mandiamo sms spessissimo dove c'è scritto senti questa musica, è passaggio, ti piace, cosa ne facciamo, dobbiamo pensare a qualcos'altro. Per cui è un continuo ragionare. Enzo e Valentina sono due persone, per esempio, che tengono moltissimo alla parte artistica, ma ci tengono veramente tanto, per cui spesso la proposta musicale o l'idea del brano musicale parte da Enzo, parte da Valentina, io dico no, oppure dico sì, oppure io dico perché non provi questa. Per cui con loro è un lavoro, si potrebbe dire un lavoro di keep. Non è più una scelta soltanto mia o soltanto loro. In tutti questi anni è successo però una cosa molto bella dal mio punto di vista, che Enzo mi ha istruito tantissimo sulle componenti tecniche del dressage e delle cure. Io ho dato tanti consigli su come ascoltare o su quali sono le caratteristiche musicali, per cui anche lui si è arricchito da un punto di vista musicale. Bene, io adesso direi, lei ci ha portato proprio la cure che ha creato per la Valentina e direi di spiegare un attimo il suo lavoro, come svolge, come inizia, come procede, come finisce, proprio sull'esempio di Valentina Truppa e Eremo. Ok. Allora, l'idea qui è stata, prima dell'Olimpiadi, di portare Valentina, visto che era già a un livello altissimo, e forse più grande rappresentante italiano in questo momento a livello mondiale, di portarla con le musiche tipiche italiane. Non volevamo cadere nelle cose triviali o scontate, né volevamo andare a fare qualcosa di estremamente difficile. Allora, per esempio, O Sole Mio è stata la cosa che ci è sembrata più logica per l'inizio. Ovviamente la difficoltà è stata trovare una versione di O Sole Mie che avesse una grande componente ritmica, perché partendo poi passaggio e piaf, il ritmo della musica, che è forse l'elemento più fisico, più essenziale per una persona che ascolta, deve andare di pari passo con gli anteriori. Volare, Domenico Modugno, altrettanto canzone conosciuta in tutto il mondo, ci sembrava, con questa parte cantata, molto indicata per il trotto. E la cosa che si può notare sempre è che comunque gli anteriori sembra che battano il ritmo, che tengono il ritmo. La difficoltà mia consiste, da un punto di vista tecnico, sul fatto che ogni figura del grafico deve avere una sua coreografia musicale, deve avere un suo arrangiamento. E nel momento in cui finisce e comincia qualcos'altro, il pubblico e i giudici non devono sentire nessuno stacco, nessuna perdita di continuità. E allora lì è un grande lavoro di montaggio audio, per cui io trovo i brani musicali che servono e li rimonto. Quando non c'è la cosa che mi serve, suono. Questa qui l'ho suonata io al 50%, utilizzando i miei strumenti, tutta la parte melodica era suonata da me. Con te partirò, l'ha voluta Valentina. È stata una sua scelta e se la sentiva addosso. L'abbiamo trovato questa versione, modificandola un po', accorciandola sull'ingresso adesso. Ci servivano i tamburi, esatto, qua, in maniera che valorizzassero questo passo allungato. e anche qua l'idea è sempre creare un'atmosfera. Il concetto finale di una cour è che comunque i giudici ascoltino qualcosa che abbia coerenza, che abbia un senso con quello che stanno facendo. Marina, invece, è stata farina del sacco di Enzo. È stata proprio una cosa che lui aveva in testa. Il problema che è venuto fuori e che mi ha portato via tanto tempo è che questa parte al galoppo è molto lunga. E allora io non ero soddisfatto di questa versione di Marina che stiamo ascoltando adesso, che funziona fino a un certo punto. Dopo un certo punto, secondo me, era troppo lunga. Allora il concetto è stato trovare un'altra versione di Marina che si legasse con questa pirouette che evidentemente deve sempre tenere in conto gli anteriori. L'uscita con i segnali. Eccoli. Alla fine di questo tratto la necessità era trovare un arrangiamento, una versione di Marina che, come dire, rinvigorisse la curva, che tenesse vivo l'attenzione, una bella cosa nuova. E allora ne ho trovata un'altra con uno strumento altrettanto tipico italiano che era la fisarmonica. E anche qui il lavoro è stato... Adesso non voglio entrare troppo in termini tecnici musicali ma ho dovuto risuonare alcune parti nelle tonalità. Eccola qua. uscendo da questa parte questo coro mi è servito per legare l'uscita in maniera che nel momento in cui adesso incominciano con le fisarmoniche sembra che sia tutto lo stesso pezzo legato. E qui ho dovuto poi cambiare la tonalità perché erano due tonalità differenti insomma, legarla insieme cambiando ovviamente le pirouette perché quelle erano doppie, queste sono semplici ed ecco qua con la fisarmonica che si tiene comunque il tema musicale e alla fine suonava insomma, era una tour che suonava. Allora il signor Claudio Gabbiani ci ha appena spiegato come ha composto la cure di Valentina Truppa che ha portato anche alle Olimpiadi e adesso abbiamo raggiunto anche il padre e il giudice internazionale di Dressage Enzo Truppa. Buon pomeriggio signor Truppa. Ben trovati, ben trovati a tutti e ben trovato al mio co-colpevole Ciao Enzo Ciao Gabbiani Ciao Grazie di essere qui con noi è veramente un piacere averla qua in collegamento telefonico ci racconti un po' di questa lunga collaborazione tra lei e il signor Gabbiani Una collaborazione che si basa sul fatto che a Milano io vivo a 20 metri da casa sua Esatto Esatto E quindi ne approfittiamo per ahimè diciamo dei pignoli tutti a due e quindi una cure magari la rivediamo 44 volte finché non ci piace magari dopo la rifacciamo anche Esatto Se voi guardate quella cure l'apice è il pezzo finale del Piaf Passage così ci capiamo ma viene preparato quindi la cure deve essere una storia un crescendo poi deve avere un tema nel caso di Valentina ammazza una italiana cavallo italiano musica italiana Certo Quindi ci deve essere un tema e una storia con un crescendo questa è la coreografia dopodiché ci deve essere simmetria nelle figure rappresentate se io presento appoggiata a destra ne devo fare anche a sinistra se presento una tiroletta da un lato devo presentare anche quella dall'altro lato prima di seguito quindi simmetria poi occupazione del maneggio tutto non si può fare tutte le figure al centro del maneggio tutte le figure in un angolo tutte le figure in una parte del maneggio e poi grado di difficoltà delle figure che deve essere però attenzione un grado di difficoltà calcolato Claudio lo sa benissimo è un continuo cambiare quando i cavalli crescono tecnicamente le figure si facevano una volta che magari sono più semplici per non mettere in difficoltà dopo si fanno più difficili i motivi in genere musicali li suggerisco io poi però lui trova insieme a me quello è il pezzo migliore e poi lui fa un capolavoro di aggiustamento e noi poi possiamo goderci questi capolavori guardando la nostra Valentina Truppa che si esibisce nei rettangoli internazionali signor Truppa grazie mille di essere stato con noi le auguro buona giornata ciao Enzo saluta Valentina saluti a tutti grazie saluti a Valentina grazie bene e con questo signor Gabbiani direi di fermare per una piccola pausa pubblicitaria ma torniamo tra poco restate con noi ben ritornati cari amici di Classo TV al nostro speciale dedicato al dressage in particolare al freestyle e alla musica che accompagna queste espressioni più alte del dressage con me qua in studio ancora Claudio Gabbiani ben ritornato grazie grazie mille allora parliamo un po' delle sue altre collaborazioni con altri cavalieri tra le quali spica anche quella con Esther Soldi sì anche Esther Soldi con Esther Soldi ci conosciamo da tantissimi anni anche con lei è stata una crescita anche con lei per tutti questi anni che ci ha portato a fare quest'ultima cur quest'ultimo freestyle che mi piace mi piace moltissimo perché aveva era una sfida differente rispetto a Valentina era una sfida differente perché avendo visto la cavalla di Esther avendo parlato con lei quello che abbiamo cercato di fare immediatamente è lavorare sull'eleganza volevamo fare una cura elegante e il caso ha voluto che la settimana prima di questo incontro con Esther per altri motivi musicali io avessi ascoltato la Spanisher Marche e la Persisher Marche di Strauss che ho trovato bellissime e la mia mente oramai bacata per certi versi ogni volta che ascolto un brano musicale che va dalle hip hop alla musica classica penso immediatamente se trotto passaggio galoppo passo o ingresso e ho detto ma queste funzionano benissimo per una cur ma ci deve essere un cavallo particolare un cavallo che si porta bene un cavallo che ha bisogno di dimostrare ancora di più la sua eleganza e allora ho proposto a Esther questo tipo di lavoro ho fatto sentire dei piccoli brani Esther di solito viene da me in studio mi fa vedere la ripresa del cavallo e insieme ascoltiamo un po' di musiche per riuscire a capire qual è l'indicazione generale la storia di raccontare come diceva prima Enzo e allora con Strauss facendo una ricerca un po' lunghetta devo dire la verità sono riuscito a trovare dei brani tutti di Strauss che legassero questa cour e che facessero risaltare il concetto proprio di eleganza come se fosse la vecchia corte fine settecento inizio ottocento a Vienna in questa maniera e anche questa è stata una pura estremamente soddisfacente che so che Esther si diverte a portare in giro e anche in questo caso come si diceva prima con Enzo è già la terza volta che ci sto mettendo mano perché la cavalla cambia andature perché cambia queste che fa parte del lavoro è bello perché significa che sia i cavalieri che tutti quanti ci tengono a portare il bel lavoro un lavoro soddisfacente molto soddisfacente bene allora io ti direi di andare anche a vedere questa cure di Esther Soldi con la sua cavalla sulle note di Strauss e ovviamente il suo commento allora l'idea qui era cercare di fare in modo che l'eleganza appunto della cavalla portasse leggerezza ci siamo immaginati le persone che ballavano Strauss valser quadriglie polche alla fin fine anche questi cavalli ballano esattamente allora cercare di fare in modo che soprattutto in queste parti giocare per esempio sui volumi eccoli sui cambi ci fosse sempre uno strumento che battesse esattamente il ritmo come se gli anteriori fossero proprio la parte percussiva di questa una domanda per trovare gli strumenti che battono esattamente sul ritmo del cavallo come si fa? si cerca la musica che si abbina al cavallo o si allunga e si modifica un po' la musica per farla proprio difficilmente si riesce a trovare una musica perfetta adesso ci sono dei software e delle tecniche che permettono degli allungamenti degli accorciamenti così precisi che io posso modificare la velocità di un brano musicale non so quasi del 50% e nessuno se ne accorge diventa esattamente l'ideale molto molto bello anche questo questa cour di Esther Soldi con la sua cavalla sulle note di Strauss molto elegante per un cavallo ovviamente da dressage ricorda un po' l'alta scuola di Vienna con i vipizzani che si esibiscono sempre anche loro a queste note molto eleganti e classiche diciamo così ma adesso parliamo anche di un'altra campionessa che è una sua cliente chiamiamola così con cui ha avuto anche una lunga collaborazione stiamo proprio parlando di Sara Morganti pluricampionessa italiana e ovviamente anche campionessa mondiale individuale nel 2014 di Caen nella disciplina del paradressage esatto il rapporto con Sara è cominciato tre anni fa e ho visto la sua cour ho visto la sua cavalla ho visto la sua ripresa lei monta la cour solo al passo e quando mi ha detto ho bisogno di una musica anche Laura ha detto bisogna trovare un sistema e un'idea per fare in modo che questa cour sempre al passo sia costantemente viva costantemente vivace che proponga sempre cose nuove perché Sara monta bene è campionessa mondiale ci sarà il suo bel perché e quindi loro facevano già la parte giusta adesso era compito mio e quando ho visto lei che sono usciti tutti dal maneggio ha fatto la sua cour con la sua cavalla e io ho detto a Laura ma sai che secondo me la cosa più giusta per come lei monta e per come la cavalla sarebbe utilizzare dei musical musical molto famosi molto allegri molto semplici molto vivaci e le ho detto secondo me bisogna fare tutti insieme appassionatamente ma i fer lady loro hanno detto mi sembra una buona idea ma ci affidiamo a te perché detto così sembra una cosa un po' pazzerella però io avevo già le musiche in testa di questa cosa e devo dire che in realtà è stato un lavoro molto difficile veramente tanto tanto difficile perché significava trovare almeno 4-5-6 musiche da legare insieme nei punti giusti perché non è che io calcolo dopo un minuto cambio musica dopo un minuto cambio musica voleva dire in realtà la storia di cui Enzo diceva come se fosse una storia a capitoli 3-4 capitoli che avessero il loro senso interno ma che avesse un senso globale è stata una bella sfida che mi ha riempito di soddisfazione quando poi Sara porta in giro la cur da tutte le parti e la prima cosa che dice è che lei si diverte e lei si diverte e questa è la soddisfazione più grande perché è come se lei montasse sentendo la musica e anche qui il concetto è stato partiamo piano piano questa musica leggera poi piano piano cominciamo a aumentare il ritmo aumentiamo l'arrangiamento aumentiamo l'orchestrazione per portare l'apice che dice ecco questa qui è l'unica parte al trotto cortissima che mi ha permesso di fare ma è praticamente è stata la parte più difficile perché in realtà è già finita ecco perché io continuavo a dire è sempre a passo perché in realtà quello che restava era ecco qua e quindi come dire quella leggera S serpentina al trotto è servita soltanto per legare due capitoli a lei due parti della cur a me due capitoli musicali ma è come dire è mettere una punteggiatura all'interno di una frase adesso abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra campionessa del paradressage Sara Morganti ciao Sara buongiorno a tutti grazie ciao Sara salve Claudio grazie mille di essere qua con noi e con me c'è anche Claudio e ti volevo proprio chiedere come è nata questa collaborazione con Claudio e cosa avete insomma sviluppato insieme io e il professore Gabbiani ci siamo incontrati in occasione di uno stage federale organizzato dal tecnico federale Laura Kohn in cui lui era presente come coreografo proprio per aiutarci a creare delle musiche che andassero a spettolineare le nostre tour in quell'occasione il tecnico federale ha studiato un grafico che abbiamo realizzato e il professor Gabbiani ha provveduto a creare questa musica che l'ha accompagnato nel cerco con i cambiamenti della cavalla sono stati fatti alcuni aggiustamenti e niente agosto dell'anno ascolto questa tour balsa la medaglia d'oro mondiale Claudio ci ha detto che quando parte la musica quando tu senti la musica sei proprio felice in sella e ti diverti molto a fare questa cure insomma quando parte la musica poco prima di entrare nel rettangolo cosa senti cosa ti trasmette la musica di Claudio ma sicuramente è come ballare la mia la mia cure è quasi completamente al passo e nonostante questo vi assicuro che farei di danzare è talmente avvecata la scelta che niente la cavalla dovrà veramente ballare con questa musica e vi assicuro che ormai la conosci certo raccontaci un po' questa cure di Claudio dove ti ha accompagnato in quale esibizione in quale competizioni ti ha accompagnato dove l'hai portata con te con la tua cavalla bene questa qui va la medaglia di bronzo europei medaglia d'oro mondiali 2014 e poi medaglia d'oro non ha in quest'anno concorso internazionale e numerose altre medaglie d'oro a vari internazionali ai quali ho partecipato insomma è proprio una musica che ti ispira e che ti porta proprio ai titoli più importanti del mondo anche anche i campionati italiani assoluti bene così questo è insomma l'effetto della musica l'effetto che deve avere una musica sia sui cavalieri sia sui cavalieri ma soprattutto anche sui spettatori che possono godersi questi spettacoli che ci regali anche sempre tu Sara conquistando veramente dei titoli incredibili ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi oggi e ti auguro un grande in bocca al lupo per tutto il futuro e soprattutto per le prossime competizioni grazie ciao Sara presto a presto a presto grazie mille buona giornata ciao bene abbiamo anche sentito Sara Morganti che è felicissima delle tue composizioni ovviamente veramente dei grandissimi capolavori signor Claudio Gabbiani io la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi e di avere insomma di averci aiutato a capire un qualcosa di più di queste composizioni musicali che accompagnano i cavalieri e i nostri cavalli e soprattutto di averci dato questa insomma questo piccolo insight in questa arte grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare di musica per i cavalli grazie bene cari amici di Classos TV questo è tutto dal nostro speciale dedicato al dressage in particolare al freestyle e alle musiche che accompagnano i cavalli vi auguro un buon proseguimento sui nostri canali e vi auguro una buona serata grazie arrivederci grazie Grazie.